Musica Terremoto emergenza vertice a Palazzo Chigi, oltre 150 scosse in poche ore da Pozzuoli a Napoli, dichiarata l'emergenza provinciale, convocato vertice dalla Presidente del Consiglio Meloni, 39 famiglie evacuate in rabbia tra gli abitanti. Vogliamo tornare nelle nostre case. Sgomberi e paura, Pozzuoli vive un dramma. Pozzuoli si prepara alla nuova notte di emergenza, scuole chiuse anche domani sgomberate, anche 140 detenute dal carcere. Il sindaco Manzoni esprime il rammarico per il sisma bonus e dice è una necessità, andremo avanti. Napoli no alle fake news, non c'è nessun allarme. Il sindaco di Napoli, Manfredi, in una conferenza stampa lancia un appello ai cittadini a non farsi prendere dal panico. Scuole aperte in città domani, SOS alla stampa, si evitano fake news sull'emergenza. Avellino verso il voto e scontro tra i candidati entra nel vivo la campagna elettorale nel capoluogo Erpino, sottoscritto il patto con Lega Ambiente dai candidati a sindaco Iandoli e Gengaro, intanto è polemica sulla proposta del candidato civico genovese. Ragazzi in coma etilico, ora Salerno dice basta. Cartelli di divieto all'esterno dei locali della Movida per impedire la vendita di alcolici ai minori. Firmata l'ordinanza del sindaco che dice basta ragazzini in coma etilico, rafforzeremo i controlli e puniremo i responsabili. Buonasera, questi erano i nostri titoli, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Andiamo subito sul primo piano, ovviamente dedicato all'emergenza, alla crisi bradisismica che ha travolto i campi Flegrei e Napoli. Rabbia e paura, tanta voglia di tornare nelle proprie case. Ma facciamo il punto anche su quelle che sono le voci raccolte a Pozzuoli tra i cittadini. Vediamo. Dopo la paura, ora tra i residenti dell'area dei campi Flegrei c'è la rabbia. Lo sciame sismico di magnitudo 4.4 ha fatto registrare danni ad edifici con 39 famiglie evacuate a Pozzuoli, accolte nelle tende allestite sul lungomare. È stata dichiarata l'emergenza provinciale. L'INGV esegue campionamente misure nella caldera, ma i residenti attendono di poter rientrare nelle proprie abitazioni. No, io ho passato l'annottata insieme a mia moglie in macchina, quindi automaticamente, perché loro ci hanno detto che è il vigile, non vi permettete di entrare in casa finché non saremo noi a dirle potete entrare. C'è stato pericolo e tutto il resto. Ma non lo so chi deve venire da noi a dirsi potete entrare o non potete entrare. È solo questo. Ho tutta la mia vita in casa, quindi non sapendo niente non è bello come situazione. Se arriverà qualche altra scossa la situazione diventerà molto, ma molto pericolosa. Stasera, stanotte, ovvero, ho dormito nel giardino perché ho lo spazio. Onestamente non è possibile continuare in questo senso. Non ce lo diamo. È un problema di natura. L'unica cosa che io ho notato ieri è che siamo privi di qualunque piano di evacuazione perché ieri c'è stato, almeno nelle zone lì, c'è stato il panico. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiderà invece domani a Palazzo Chigi un vertice interministeriale sulla situazione ai campi flegrei. Lo ha annunciato proprio il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sottolineando che sul tavolo ci saranno eventuali ulteriori interventi da parte del Governo dopo quelli già promossi e in corso di attuazione. Intanto domani le scuole restano chiuse a Pozzuoli. È stato evacuato anche il carcere femminile del Comune Puteolano. Il Sindaco fa il punto sui numeri dell'emergenza e esprime rammarico per il sisma bonus. Dice occasione mancata. Vediamo. Il Comune di Pozzuoli si prepara alla nuova notte di emergenza in quella che è una delle più severe crisi bradisismiche degli ultimi 40 anni. Al momento sono 350 le segnalazioni arrivate, ma il numero in aumento. 102 sopralluoghi fatti, 37 tecnici impiegati, 11 squadre dei vigili del fuoco, 18 fabbricati sgomberati, 39 famiglie evacuate, allestite 5 aree di attesa, evacuato il carcere femminile di Pozzuoli. Sono questi i dati forniti dal Sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, alle prese con la gestione dell'emergenza. Stiamo continuando a fare i sopralluoghi nei nostri territori, sulle nostre scuole. A breve mi daranno un report sulle scuole. Per ora ho disposto l'ordinanza di chiusura delle scuole, fino a quando non avrò un quadro chiaro. Il Sindaco esprime rammarico per il mancato ok del Governo per il sisma bonus. Con il bradisismo, ci piaccia o no, noi dobbiamo convivere, incrementando la resilienza, prevenendo i rischi, sulla strada del sisma bonus, andremo avanti poi. Ognuno poi assumerà le proprie responsabilità se concederano ai campi freghei. Se ci sono altre parti d'Italia dove hanno beneficiato di un sisma bonus, non posso immaginare perché i campi freghei non debbano avere lo stesso trattamento. È un appello quello del prefetto alla calma e a tenere libere le vie di fuga. Per quanto riguarda le vie di fuga, sono stati potenziati i servizi di viabilità, notevolmente, e questo ci fa ben sperare perché la via di fuga è tale se la via è libera, ovviamente. Intanto lo sciame sismico rallenta, ma gli esperti degli NGV non escludono nuove scosse. La deformazione del suolo sta continuando con lo stesso andamento negli ultimi 40 giorni, con due centimetri al mese nell'area di massimo sollevamento. Ci aspettiamo che ci potrà essere ancora sismicità con gli stessi livelli. Da Pozzuoli ci spostiamo a Napoli per ascoltare le parole del sindaco Gaetano Manfredi che dice alla popolazione di non lasciarsi prendere dal panico e soprattutto di non abbandonarsi a fake news. Attenzione puntata su Napoli e la zona flegrea dopo le numerose scosse di questa notte, la più forte di magnitudo 4.4 della Richter che ha portato paura tra la popolazione. Paura ma nessun danno e neppure nessun allarme immediato circa eruzioni imminenti o fenomeni più forti, come ha spiegato in conferenza stampa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dobbiamo in tutti i modi evitare che la normale paura, una paura assolutamente comprensibile, una preoccupazione concreta e reale però si trasformi in panico. Dobbiamo garantire la normalità nella vita delle persone, ovviamente in sicurezza, andare a scuola è il primo modo per vivere la normalità. Noi tutti insieme dobbiamo lavorare per convivere con questo fenomeno, partendo da una considerazione che un rischio eruttivo al momento non c'è. Con Manfredi l'assessore alle infrastrutture e alla protezione civile Cosenza che ha rassicurato sul piano di evacuazione. Per i piani di evacuazione dal rischio buccanico, che non è questo il caso, ma che racchiude uno studio profondissimo che è stato già presentato alla protezione civile regionale dieci giorni fa e qui siamo in attesa dell'occhio ed è un piano estremamente dettagliato che per ogni cancello di uscita e ogni casello, ogni rampa della tangenzia dice esattamente cosa fare ora per ora. Cambiamo argomento. Sul lato posteriore dell'abitazione aveva sistemato una scala di fortuna che gli avrebbe consentito di scavalcare il muro di cinta della villa e scappare. I carabinieri di Giuliano hanno arrestato Francesco Iacolare, 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione messo il 9 maggio dalla procura di Napoli. militari si sono messi sulle tracce tenendo anche sotto controllo i social e proprio grazie al web patrolling sono riusciti ad individuare il ricercato e il suo nascondiglio. Il 52enne si trovava in una villetta nella frazione di Varcatura in compagnia di un parente e è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Un inno alla libertà e di espressione l'installazione di Dormino Anything to say dal 25 al 31 maggio a Napoli. Dopo Berlino, Dresda, Ginevra, Parigi e Strasburgo Anything to say, l'installazione itinerante di Davide Dormino fa tappa a Napoli dal 25 al 31 maggio in Piazza Dante. Anche noto come il monumento al coraggio, l'opera è un inno alla libertà di espressione. Le statue in bronzo degli ideatori di Wikileaks sono poste in piedi su tre sedie. Accanto a loro una quarta sedia vuota, offerta come palcoscenico a chiunque voglia salirci. Le fattezze di un monumento classico, figurativo, ci sono tre stati riconoscibili però appunto c'è questa sedia vuota che invita il pubblico a partecipare quindi è un'opera partecipativa, itinerante. È un'opera definita un monumento al coraggio. Chelsea Menning, Edward Snowden e Giuliano Assange, cittadino onorario di Napoli chiederanno di prendere voce su questa vicenda terribile che li vede coinvolti ma che trascende la vicenda di Giuliano Assange. È una vicenda che riguarda la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di ciascuno di noi. Assange rappresenta proprio, incarna la libertà di stampa e in questo momento storico così difficile anche per l'Italia dove sono violate molte cose fondamentali della libertà di stampa e tutto questo ha un senso ed è un senso che accade a Napoli che è una delle città dove ci sono più giornalisti sotto scorta e dove ce ne sono tantissimi attenzionati. Gli agenti della Polizia Penitenziaria di Benevento hanno arrestato i nove detenuti ritenuti responsabili dei disordini esplosi domenica mattina all'interno del carcere Sannita. Si tratta di persone ristrette nell'Istituto Detentivo Beneventano, Monte Sarchio, Napoli, Melito, Brusciano e di San Salvatore, Telesino. Le ipotesi di reato vanno a vario titolo, dal procurato allarme, alla resistenza e alle lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Tutti domani davanti al GIP, secondo una prima ricostruzione, tutto era iniziato per il mancato accompagnamento di un ospite della struttura che per questo si sarebbe ribellato ad effettuare una visita medica. Da qui momenti di tensione con due agenti feriti dopo la rottura di un vetro. E cambiamo decisamente argomento, parliamo delle prossime elezioni. Avellino al voto, i candidati Gengaro e Iandoli firmano il patto con Lega Ambiente. Ci racconta tutto Angelo Giuliani. Avellino al voto, ora la campagna elettorale si gioca sull'ambiente. Il candidato a sindaco di Fratelli d'Italia, Modestino Iandoli, abbraccia l'impegno di Lega Ambiente e del progetto Traccia, la giusta transizione per Avellino. Iandoli ha sottoscritto tutti e dieci i punti del documento, impegnandosi sia in caso di successo elettorale che in caso contrario a sostenere personalmente il piano di Lega Ambiente. In mattinata era stata la volta di Antonio Gengaro a impegnarsi sugli stessi temi. Noi siamo per una città green, per offrire più servizi ai nostri cittadini, per lavorare per migliorare l'ambiente, l'aria, potenziare il verde. Abbiamo sempre dialogato e ragionato con le associazioni ambientaliste, in particolar modo con Lega Ambiente. Io onorerò i miei impegni con gli ambientalisti avellinesi e con Lega Ambiente. E sull'accordo programmatico per la città proposto agli altri candidati da Rino Genovese, Gengaro e Tranchant. Rino rappresenta il centrodestra da Avellino, un centrodestra che ha vergogna dei propri simboli, che ha governato insieme a Festa, che ha fatto tanti disastri in questa città, quindi non c'è niente da sottoscrivere. Intanto in città la campagna elettorale si intreccia in questi giorni con la fede e i festeggiamenti per Santa Rita. Oggi la benedizione delle rose, domani il tradizionale appuntamento con la processione. E adesso andiamo a Salerno, dove è stato messo in atto un vero e proprio giro di vita per sottrarre l'alcol ai minori, una vera e propria devianza minorile. Vediamo. Controlli nella Movida, due locali del centro chiusi dalla polizia e un'ordinanza del comune di Salerno per dare un freno all'escalation di abuso di alcol tra i minori. Linea dura per fermare un fenomeno sempre più preoccupante. Gli esercizi commerciali cittadini dovranno ora esporre all'ingresso su avvisi e cartelli relativi al divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni come previsto dall'articolo 689 del Codice Penale. Sono stati chiusi anche due esercizi commerciali recidivi e credo che continueremo su questa strada. Non è pensabile che il sabato sera il pronto soccorso dell'ospedale sia invaso da ragazzini in coma etilico. è qualcosa di assolutamente insopportabile e credo che con questo piccolo contributo di chiarezza, di stimolo si possa aggiungere un altro piccolo tassello alla lotta contro le dipendenze. Un atto istituzionale, l'ordinanza che segna un punto in un iter di sensibilizzazione sulla tematica partita in sinergia con la Commissione Ambiente e Cultura diversi mesi fa dopo gravissimi fatti di cronaca. Sicuramente cercheremo di attivarci anche con la Polizia Municipale cercando di creare dei momenti alternandoci tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza facendo sentire appunto la presenza delle istituzioni rispetto a questo problema che insieme ad altre tematiche che riguardano l'ordine pubblico non possono essere sottovalutate. Saremo determinati. Riforma della giustizia, cultura della legalità se ne è parlato oggi a Benevento con Catello Maresca che ha presentato il suo libro Lo Stato vince sempre. Ci racconta tutto Alessandro Fallarino. Lo Stato vince sempre è un dato di fatto al di là del tempo che occorre per arrivare alla vittoria. Così Catello Maresca, magistrato che condusse le indagini che portarono alla cattura del boss Michele Zagaria oggi pomeriggio a Benevento per presentare il suo ultimo libro Incontro nell'ambito di maggio d'autore che oggi è stato scandito dall'iniziativa Lettura e Inclusione organizzata dall'Associazione Insieme per in collaborazione con le scuole. Prendere chiaramente e definitivamente posizione rispetto alla parte in cui stare. Noi dobbiamo decidere tutti quanti insieme di stare dalla parte del bene e di combattere in maniera decisa tutte le criminalità, tutte le mafie perché è giusto perché conviene e perché questa deve essere la prospettiva per il futuro. Benevento e il Sannio spesso definite i sole felici. Io credo che non esistano i sole felici e se esistono devono stare molto attenti perché la criminalità ormai pervade ogni angolo del paese. Occasione anche per parlare dei rapporti tra Stato e politica dalle misure cautelari alla riforma sulla giustizia. Io credo sempre nel rispetto istituzionale che è la cosa fondamentale al di là delle riforme del merito che poi conviene fare o non fare ma qualsiasi riforma anche quella in discussione sulla giustizia credo che si debba fondare sempre su un principio cioè viene fatta nell'interesse delle istituzioni e non contro qualcuno. Grazie anche a Carmine Quaia per questi aggiornamenti. Il Tg finisce qui grazie ad Enrico Coppola in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!